salve bella gente qui gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di minecraft hardcore ci troviamo sempre dentro la base numero 2 che off camera ho voluto perfezionare aggiungendoci questo pavimento di legno e anche una sala chest qui dentro andremo a metterci tutti i minerali perché probabilmente dopo andremo un po in caverna dato che la divine rpg è una mod veramente complicata e se non ci fabbricheremo delle armature forti in fretta moriremo presto dato che i mob di questa mod hanno una vita molto più elevata rispetto a quelli normali ed è anche per questo che ho voluto ascoltare i vostri consigli e mi sono scaricato la damage indicator mod una mod che mi avete consigliato in tantissimi in pratica ora posso vedere la vita dei mob ostili e neutrali come questo goblin che ha 15 hp e ora non ce li ha più oh mi ha droppato pure una pozione di healing benissimo me la metto qui e penso che vi ricordiate tutti della scimmia che vive sopra quest'albero una volta gli avevo tirato 140 colpi e non sapevo quanta vita gli fosse rimasta ma grazie alla damage indicator ora posso capire esattamente quanta vita ha no ma cos'è questo un cavallo scheletro peccato che non ho una sella con me volevo vedere se potevo rubarmelo ma cosa ci faceva dentro questo posto è una stranissima stanza comunque sento un rumore che non mi piace per niente sento ancora i versi della scimmia ma è ancora sopra l'albero fatemi controllare magari la vedo da qui aspettate no ma io lo sento no è qui è scesa è scesa dall'albero a 300 hp la pistola gli fa male oh ma la pistola e mi tira pure addosso blocchi mi ha tirato due blocchi di sabbia no aiuto devo fuggire un secondo ragazzi sembra che la pistola d'acqua gli stia facendo male no ma mi vuole in faccia no 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 ok super bolla una bolla la devi intrappolare è l'unico modo è l'unico modo dai bolla ok ora che sta volando in giro devo mangiare il pane per recuperarmi vita vattene giù vattene giù vattene giù mi sta costringendo a correre in caverna sembra che qui non mi segua ok un secondo ragazzi qui è dura qui è durissima non so perché ma sembra che sia caduta dall'albero e abbia perso un po di vita anche per questo ho anche un healing potion possiamo farcela continuiamo a spararla da qui ecco no l'ho mandata fuori ah no ancora qui 229 hp se stiamo qui ce la faremo riusciremo a battere quella benedetta scimmia non scendere non azzardarti non azzardarti qui è un vicolo cieco sono chiuso sono chiuso no 8 hp 2 hp è morta ma cosa mi ha droppato no monking sword la spada del re scimmia è potentissima guardate che bella vediamola da fuori è enorme è più potente di una spada di diamante dato che ha più 9 di attacco però è un po più lenta meno 5 di speed ma sembra una spada fortissima sono contento veramente che sia caduta così ci siamo ottenuti una spada veramente degna di noi ok ora con questa spada non ho più paura di nessuno adesso penso che andremo un po in caverna per procurarci nuovi minerali andiamo subito nella base numero 2 e ok ora andiamo a cercarci qualche minerale nuovo questo qua era già della metalurgy comunque ora dovremmo stare il triplo più attenti quando andremo nel sottosuolo perché la divine ha aggiunto nuovi mob sotterranei ad esempio ci sono dei ciclopi che ti attaccano a vista e lo sappiamo bene quanto forti sono i ciclopi quindi non starò molto qui sotto dato che ho paura ho paura veramente temo per la mia vita comunque guardate quanto utile ci torna il gancio qui in queste caverne senza usare i chili di cobblestone posso raggiungere vari posti ok anche qui vedo dell'altro materiale me lo becco tutto però io volevo anche del materiale nuovo pure degli emerald ci sono con questi diventeremo ricchi veramente dopo spam o vendite ai villagers mi danno di tutto e di più ok fatemi controllare la zona non vedo nemici molto potenti in giro sono qualche pipistrello penso ho sentito qualcosa aspettate no no ecco appena ho parlato che ero salvo sento uno stranissimo verso chi c'è qui c'è qualche mostro nel sottosuolo o no oh no la del materiale super raro ma che non posso prendere no quello è rarissimo quelli là sono le rupie ho letto qualcosa nella wiki è un materiale super raro devo raggiungerlo non importa rischio la mia vita anche se c'è il mostro e anche del diamante non ci credo ok prendiamoci intanto questo diamante ok ok preso tutto perfetto e ora andiamo subito lì qui mi tocca usare della cobblestone no chi mi attacca mi hai fatto prendere un infarto ragno fai nella lava ok altro diamante qui sotto mi prendo pure questo benissimo e ora andiamo qui ecco e anche lì ce n'è altro qui dobbiamo fare un po' un muro per proteggerci dalla lava ok mi sono liberato il posto da tutta quella lava fastidiosa ora possiamo prenderci praticamente tutto il minerale che c'è devo buttarmi anche via qualcosa ok buttiamo via la chest plate che non la voglio più e ci prendiamo anche questo che è super raro non dirmi che c'è della lava qui sotto ok e questo era l'ultimo mi sembra questo però l'abbiamo perso nella lava mannaggia anche qua ce ne sono altri due siamo super fortunati sul serio e mi sa che dopo questi io torno in superficie non voglio rimanere troppo in queste miniere ok saltiamo c'è uno zombie fila via nella lava bravissimo complimenti aspettate mi fermo un attimo a raccogliere questi emerald veramente gli emerald non possiamo non prenderli avevo detto che me ne andavo subito beh forse aspetto un secondo perché sapete quando vedi tutti questi minerali tutti insieme ti viene voglia di raccoglierli torniamo su in superficie che vi ricordate abbiamo visto un dungeon prima volevo vedere che razza di dungeon era c'era tipo un pezzo di legno che si estendeva dietro una collina sembrava qualcosa tipo una nave quindi noi ci andiamo subito addio miniere siamo riusciti a sopravvivere fino a casa ora metto a cucinare un po' di real mite e intanto che si cucina noi andiamo a vedere quel dungeon lì dietro mi pare che era dietro questo albero quindi devo correre in fretta non è molto lontano è proprio dietro questa collina mi preparo già con la spada o con lo sparabolle perché ormai lo sparabolle altro che le spade c'è pure uno slime felice che mi viene ad attaccare ovviamente e si divide in altri mille slime ma questa spada è un portento guardate morti tutti e un bordello di slime ball sette slime ball con queste dopo mi farò un sistema di pistoni a casa forse per la tomba ah veramente tantissime eccola lì la barca no dei pirati una barca dei pirati che mi vengono addosso no qui la mia pirata ok tu usi lo scudo io uso la spada vediamo chi vince ma vinco io ovviamente un colpo di sparabolle no non puoi tirarti vita e non puoi e si è recuperato tutta la vita e no pure questi guardate tre cuori mi hanno lasciato sono fortissimi sti pirati ragazzi tempo di fuggire ho del cibo con me dimmi di sì mangiamo una mela ok ok devo solo aspettare che la vita mi si recuperi intanto usiamo lo sparabolle ok il primo è fuori ormai mi sembra morto ok il primo è morto perfetto e anche questo qua è finito mi ha droppato dei cookies che gentile questo sarà un combattimento duro ma nemmeno troppo eeeh no è un carro armato è un carro armato sul serio non ho visto niente di peggiore ogni freccia non funziona vabbè si farà un bel danno caduta adesso paff tempo di usare una pozione di cura vabbè è morto ok abbiamo fatto fuori tutti i pirati mi riprendo le frecce e corro verso il mio bottino siccome sono pirati sicuramente avranno qualche chest utile vedo già due chest mi butto sopra l'albero maestro allora dobbiamo spaccare un po' qui intorno qui c'era una chest guardate qua una sella benissimo nuovi cavalli da prendere delle granate no pure delle granate ok abbiamo posto pure per quelle il resto non mi interessa i coco beans potremmo prendere che potremmo startarci una piantagione di quelli e ok ora torniamo un attimo in base benissimo mi ha dato un po' di real mite ora siamo quasi pronti per partire direi che per tornare a casa userò la pergamena della fuga ora ho finalmente capito come funziona bastava tenere premuto il tasto destro del mouse e questa pergamena ci teletrasporta nell'ultimo posto dove ci siamo addormentati quindi io mi sono addormentato a casa mia l'ultima volta e ci teletrasporta di nuovo lì abbiamo dell'infuscolium ancora da prendere me lo porto a casa anche il legno speciale c'è uno zombie che mi ha attaccato a tradimento come al solito mi sa che ho tutto con me va bene si torna a casa torniamoci pergamena vai portami a casa oh ha funzionato sono di nuovo a casa evviva siamo distantissimi penso da quella base ma comunque ce l'abbiamo fatta siamo di nuovo qui di nuovo la mia bella terrazza però non abbiamo più la pergamena peccato va bene adesso che siamo di nuovo qui penso che posso mettere a cucinare qualcos'altro questo qua la rupee che voglio vedere che cavolo è il ferro lo vado a rimettere in chest e adesso andremo ad usare i nostri diamanti per completarci l'armatura ormai la nostra armatura di Viroxeres è completamente distrutta quindi pantaloni questi qua non mi servono più e siamo a posto ok mi ha dato questa rupee ingot possiamo anche vedere cosa fa rupee vediamo cosa ah un'armatura di rupee sembra molto potente e quest'altro che era il realmite cerchiamo realmite anche questo fa un'armatura vabbè per ora rimetto tutto dentro questa chest bene ho risistemato tutto nelle rispettive chest mi tolgo un attimo i gambali e piedi che adesso noi ce li andremo a decantare non ci credo mi ha fatto un enchant protezione proiettili 4 ora saremo molto più difesi dalle frecce e vediamo se siamo fortunati anche con i gambali protection 3 mmm questo me l'aspettavo un po' meglio ma ok penso che siamo pronti per ritornare nel nether dovrei farmi qualche pozione di fire resistance però vediamo come si faceva e ti pareva del magma cream cioè io devo entrare nel nether per procurarmi una cosa che mi serve per difendermi dal nether vabbè penso che ci entreremo dato che sono tante puntate che ci devo andare dentro al nether ora troveremo dei materiali incredibili e proprio per questo dobbiamo andare ora prima che sia troppo tardi mi segno sulla mappa che qui c'è il portale portale casa mettiamogli un colore tipo rosso e ok qui sappiamo che c'è casa nostra ora dobbiamo trovare qualche zona nuova una zona che non abbiamo mai esplorato prima nel nether da quella parte ci ero già andato da questa un po' meno ho carne di zombie così a caso anche il viro xeres che ci fa sempre comodo non mi sembra però di vedere altro materiale anche qui però ci sono nuovi mob mob veramente difficili da battere ah pure dei pipistrelli del nether anche questi forse li ha aggiunti quella mod non lo so mi sembrano nuovi e qui è una zona che non ho mai esplorato prima mi sa comunque mi becco tutto io qualsiasi materiale che vedo me lo piglio va bene sembra che da lì in poi non abbia esplorato più niente adesso noi ci andremo oh 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 vedo un mostro che non ho mai visto prima proviamo ad usare l'arco funziona? ok wield fire lo stiamo uccidendo 61 hp rimasti ed è caduto nella lava io non volevo che cadesse nella lava no mi cadono nella lava vabbè va bene lo stesso a questo punto l'importante è che quella zona sia sicura ora devo scendere e se mi buttassi con il gancio ma io ho la piuma che mi ragazzi io mi metto un secondo i cloud boots che dovrebbero anche proteggermi e mi butto giù così ecco cioè io che stavo là a pensare e avevo i cloud boots scusate per fortuna me li ero presi ora siamo giù i wildfire sento i loro versi però scusate lo stacco ma mi ero dimenticato il cibo a casa e sono ritornato a prendermi 9 di pane perché veramente non si può proseguire senza cibo ma ora siamo più attivi lasciamo stare i pig zombie non mi interessa di loro dobbiamo raggiungere questo posto gancio fai il tuo lavoro non lo fa il suo lavoro va bene tempo di farci un ponte di cobblestone allora ghast non interferire con i miei piani non devi interferire assolutamente noi abbiamo una missione da compiere ho notato che qui c'era anche un altro materiale e io me lo prendo mi prendo pure questo perché oggi siamo a caccia di minerali non mi dire è un materiale super raro che non posso raccogliere ma sempre tutti sti materiali super rari ci sono dai questo non è super raro vero? questo infatti non lo era ceru clays allora ceru uh del ceru clays non sembra affatto male nemmeno quello lignatius questi li conosciamo altro ceru clays no questo è cosa sono quei due blocchi? ho trovato dei blocchi di qualcosa? no no miei miei subito no si è rotto anche là vedo un altro blocco ma si rompono ho paura di raccoglierli perché questi qua sono rari e se si rompono è un bel problema e un'altra volta mi sono dimenticato il piccone diamante perfetto va bene ragazzi sapete una cosa? io penso di concludere questo episodio di minecraft hardogore qui perché dovrei anche prepararmi un po' dato che ci sono blocchi che non riesco a raccogliere magari ovviamente come al solito aiutatemi nei commenti e fatemi capire un po' come sopravvivere meglio in questa divine rpg dannomi dei consigli su come raccogliere questi nuovi materiali quindi ragazzi io penso che questo sia tutto per questo episodio di minecraft hardcore spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.